Ma c'è un audio di Poli sul canale pubblico? Ho un audio di Poli sul canale pubblico di Sabah Kunomaiku, non lo sapevo Che mi son perso Vabbè, poi lo ascolto Anzi, anzi, ascoltiamolo adesso Cioè, è ufficiale Me lo son perso, ha risposto al mio posto Ciao ragazzi, sono la P della Pil, Poli È bella questa introduzione E mi permetto perché mi hanno segnalato di questa discussione E volevo dirvi anche io la mia opinione Allora, fermo restando che stiamo cercando di andare incontro quanto più possibile ai creator Ma poverino Stiamo cercando addirittura di ridurre ulteriormente le stanze generate nella mod Per far sì che durino meno Posso sottolineare alcune cose che ho letto qui Cioè, primo, più si gioca in questa mod Più effettivamente si prende la mano Io stesso le mie premeran duravano parecchio Ieri ne ho fatta una Ho fatto gli stessi punti di Mike, anzi di più Per flexare E ci ho messo un'ora e trenta Ok? Quindi, in realtà, si velocizza parecchio Ho fatto tre partite Che garantisco che non avevo una build rotta In secondo luogo, inizialmente, se vi ricordate, le rando devono essere otto Abbiamo pensato di portarle a sei Stiamo addirittura considerando l'idea di portarle a cinque Il problema di portarle a cinque è che si penalizzerebbero tantissimi giocatori più scarsi Passatemi il termine che potrebbero morire al primo piano E fare durare la loro competizione poche ore Con poco intendo veramente un paio Banalmente vi faccio l'esempio di J-Taz Che purtroppo è morto Non è morto nella vita reale È morto in poco Poco prima del secondo piano Quindi, ovviamente, ne stiamo cercando di fare il possibile Perché non vogliamo intasare niente Mi rendo conto che un minimo, ovviamente, di impegno ci deve essere Mike se l'è preso E so che, infatti, farà di tutto per farlo Non è mia intenzione scombinare le schede di nessuno Credetemi Ho invitato persone che pensavo gli potesse piacere il progetto Ancora a febbraio Dicendo che, peraltro, sarebbero state necessarie molte più ore di quelle di cui c'è bisogno adesso Sottolineo, non voglio fare una colpa a nessuno Stiamo cercando di fare il possibile per diminuire il carico di lavoro settimanale dei creator Che tesoro Però, ovviamente, sotto un minimo non possiamo scendere Ecco, comunque sia, se avete feedback o idee per come fare, ipotesi di come ridurre eventualmente ancora il tempo Siamo tuttora in chi per provare a fixare Vabbè, è un tesoro, ovviamente Hanno fatto un progetto di una bellezza folgorante e si sentono in colpa È anche vero che io ieri in privato gli ho detto, senti ma se scendiamo a quattro Perché non sto vivendo? Perché vivere è cominciato a diventare improbabile in questo periodo Visto che non è la pill È quello che succede nel mercato videoludico a chi di professione fa questo In una forma così completa, in forma così approfondita Eh, mica, siamo tutti Dada Non lo so, ho fatto una battuta intelligente? Poverino, non so se ho fatto una battuta smart È che l'ho trattato sempre male, quindi ho provato a citarlo così Ma non sono sicuro che sia smart Nel senso che non è con cognizioni di causa Era smart? Ok, perfetto Scusa Non è teasing? Insomma, lui è molto più libero, diciamo, di fare quello che vuole Allora Che cretino che sono Fatemi aprire Isaac, va? Allora Mi ricordo ancora quando mi chiedeva di fare cose insieme e dicevo Guarda Di quando? Eh, quando vuoi Quando voglio Come no? Certo, quando voglio Quando voglio Oddio, questi suoni di notifica Devo toglierli, non ho il tempo A proposito Comunque, sono live, giusto? Ciao ragazzi Aspettate, eh Aspettate, eh Aspettate, eh Buongiorno 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 Buongiorno, ragazzi Io sono in uno stato Ormai di dormiveglia costante Non so se sono sveglio Forse sto sognando Quindi posso soltanto dirvi Che sto facendo la storia in diretta Sto guardando la camera La pil Tra l'altro mi manca anche il meme di dire La pil, la pil, la pil Ma credo che questa sia la pil E oggi sono in live Praticamente 12 ore Di più Non lo so Adesso siamo con la pil Per la terza run Allora Se c'è una cosa che Polly ha detto di corretto È che sicuramente Inizierò a essere più veloce Non di meno Non più sciocco E questo è molto importante Sono pronto Dovremmo esserci Prendo L'inizio della run Poi Sentite Io mi alzo il volume un po' Non a voi Che dovrebbe essere già corretto Il caldo comincia ad arrivare E I professionisti Perché ora comincio a fare così Del condizionamento Che mi avrebbero dovuto dare Un'opinione Su cosa fare Senza poter fare buchi Hanno sbagliato tre volte L'appuntamento E Comincio A volerli mandare A fare In In Allora Andiamo Ghost Crush Quel Santa Nick Fum Davide Santa Claus Andrea Mercurio Davebat Vusniff Plombus Ryzen Rodage Ma quanti siete E Anne Pazzo Joe Fabio Begonia Link de Bonobo Allora Ma raro O no raro Qual è la sfida oggi Satana Ok Nel terzo e quarto piano Vi è la possibilità che spavoni il boss Clutch Si può uscire dalla stanza con le bombe Perdendo l'accesso al boss Ricompensa Eh ma Clutch come combatte È un risk in di qualcosa Ragazzi cos'è Clutch Spoileratemelo Penso che si possa spoilerare È pubblico immagino Questa è per pavidi Perdenti Inattenti Come me Mercato parallelo Durante il terzo Quarto e quinto piano Apparirà uno shop Segreto I shop contengono gli oggetti presenti nel black market No Non esiste È il boss nuovo di Mines Lo Scheletro Spettro Molto bene Aiuto 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 Sono molto 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 indeciso Su questa cosa Non sono sereno Non credo la faremo D'accordo? Credo proprio Che non Lo faremo Perché quello è il boss Che meno conosco Che mi ricordo Come collega i prince In stone Come fa lo stronzetto Non sono sereno Quindi non saprei Sono sicuro di non aver preso danno Ok Oggi niente punti spesi Oggi Niente punti spesi È vero che questi È vero che questi 500 punti Potrebbero essere ripresi Quello dell'error room server Quando hai le curse È vero È vero È vero Non dovrebbe essere fuori sink Fatemi sapere È vero È vero È vero Semper fi È vero Ok No Mi dispiace, vado Che succede con i ranni generati? Posso fare punti infiniti? No, vero Ok Immaginavo, ovviamente Ok Ok, questa è una stanza di quelle cattive Però fortunatamente non troppo Se non faccio errori grossolani Ok Comunque il bonus di Dente d'Eden Se avessi potuto dare 5 euro a Poli Averlo in ogni run Lo avrei sempre avuto Cioè quello ti cambia completamente tutto E avrei potuto fare veramente grandi numeri Perché me la cavo con quel sistema Merda, i ragni però No, 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 devo ucciderli Per favore, non generatevi Complimenti Grande IA Adoro Grazie Vi ricordate come funziona la IA dei ragni, no? Che ha il 50% di andare a caso o verso di me Incredibilmente geniale come idea Ok Cosa abbiamo qui? Bello Mio Preso Solo che non vado sotto zero Non ne vale la pena Oddio, sì che ne vale la pena Che mi frega Intanto faccio danno No, no, non serve Non serve Non si sa mai se dovessimo andare sotto in altri momenti Sì, ma tanto No, no, sono tanti No, il piano iniziale è troppo poco Oh Cristo Il piano iniziale è troppo poco Magari finisce il piano e siamo nella merda No, no Ah, ma abbiamo 15 stanze extra Vabbè, ok Oh no, il mio è il peggior nemico Ok Vi ricordate che la scorsa rama abbiamo cominciato con due health down? Abbiamo cominciato con due health down Due health down Due Non uno, due Due Non ho neanche un cuore droppato Oh, mezzo cuore Gu 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 Iera He was Uh, he was Bello Ah, è vero, si attiva meno 50 È vero Ehm Allora Che palle Che palle Ok, buono Va bene Ci siamo anche guadagnati il danno gratis Ragazzi, la ragnatela conta per Crawl Space Nel Repentance finale Nell'ultima patch che ha migliorato il gioco eternamente La ragnatela conta come decorazione? No? Ok Ok, quindi Questa erbetta si però Questo sassolino Questa erbetta lo è Dai Questa erbetta lo è Questa erbetta è Crawl Space Ok Oh mio Dio Buono Eh, devo farlo Devo decisamente farlo Devo farlo Pillole risolte 10D al primo piano, ragazze Semper Fi Ok 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 Queste stanze Ma perché il ragno limone non mi ha dato nulla? Ok Le bombe lasciano pozzo e vabbè Ok Vai Ok No, Shot Speed Up ci serve per il knockback Monetine Ok Finalmente mi posso ingozzare di pills Oh no Ok, non è niente di grave È un'illusione È un'illusione Nulla può farci del male qui Questa è una stanza per spaventare gli inesperti Questa è una stanza per fottere gli inesperti Ok 17 A parte le spine Ma sulle spine non ci vai se Se sai che non possono Che nulla può farti del male Ci vai se cerchi di schivare Ragazzi sono il vostro capitano Cioè Per favore è un'illusione Per favore è l'ultimo colpo È l'ultimo colpo È l'ultimo colpo È l'ultimo colpo Ti prego Ok 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 Va bene Boss finale Ok Visto che mi ricordavo che era l'ultimo colpo Allora 29 Meno 70 Non è ancora il momento Non è ancora il momento Oh cazzo Ok Ok Perfetto Perfetto Detto questo Adesso È il momento Di fare i bimbi grandi E prendere delle decisioni Più Logiche Tappost Leda Davide Cuzza Cocuzza Tier 1 Grazie di cuore Apprezzo Eternamente Tremendamente Dark Fox Aletta Comics Non ci sarò purtroppo Mio malgrado Ovviamente Ok Vai Perfetto Ole Chi non risica non rosica Adesso la scelta corretta Sarebbe andare dal boss La scelta corretta È sempre più andare dal boss Però questo è basement Vero? Non è Ah no è cell Sì È cellar Ah no appunto È quello pericoloso Eh Eh Non lo so Vediamo cosa c'è qua È impegnativo È molto impegnativo Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Ci devo pensare Ci devo pensare Vado al boss Non saranno 8 punti a farmi pensare A farmi perdere tutto Anche perché il boss potrebbe colpirmi Cioè Partiamo dal presupposto che potrebbe essere una cazzata Lei potrebbe colpirmi In questa stanza Ha voglia Sempre vai Uff Eh vabbè Eh oh Era l'arena peggiore Mannaggia Vabbè Vabbè Che palle Era veramente l'arena peggiore Non mi sento troppo in colpa Ho fatto il possibile Non abbiamo preso dei costi Non abbiamo preso dei prezzi Quindi bene o male Non siamo così gravemente messi male Unlucky Cioè bastava qualunque altra arena Per non prendere danno comunque Bastava veramente poco Il sub-goal cosa fa? Ah vabbè Non preoccupatevi La boss spara Alla fine è una mod Ok Niente error room Va bene E dire che abbiamo avuto anche dei potenziamenti Il fatto è che purtroppo Era veramente l'arena peggiore Non mi sento particolarmente ferito Nell'orgoglio Non so come vi sentite voi ma Secondo me poteva andare molto peggio Allora Ok Perfetto Oh por favor Troppe possibilità In realtà Sono rischi Sono rischi importanti Vado Eh 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 I tried I did my very best Ok E niente A questo punto Ciapo Entro Scendo E vediamo che succede Allora Da un pur XL A Attenzione Da un pur XL Impegnativo Ok Oh finalmente delle pillole Tears up Experimental pill up Due bonus Ok HPA Ehm Fighissimo È la cosa migliore che potesse succederci La stanza scomparirà del tutto Ci serve una bomba Perfetto Poteva andare molto meglio di così No extra No extra abbiamo Ma dai Come no extra Davvero no extra Che peccato Oh well Ehm Hm Non propriamente il top Vai Ok Questo è Va bene Altro denaro E facciamo Altro denaro Esplorando Il black lotus Non so quanto può esserci davvero Oddio Merda Prendo danno Non li avevo visti Ok Sciocco me Deconcentrato all'ultimo Cretino Ok È veramente difficile Gestirla Spoon da diversi punti però Quindi potremmo pensarci Potremmo pensarci Difficile 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 Consumare Però la velocità Ci può essere utile Anche per schivare Ok Ora facciamo punti Per lo sconto Andiamo a 100 E compriamo forse Il black lotus Vediamo Oh Cristo Non l'avevo vista Ok Ok È la fine No Ok Allora Le ossa Sono molto pericolose Anche se voi Probabilmente Non avete mai visto Isaac così limpido Sul mio canale Il Il D100 Il D100 Non è mica male Il D100 Per me Però Mi sa che non lo farò Si schipta Si schipta Si schipta Si schipta Si schipta Si schipta Allora Aspettate Faccio una cosa Come sempre Allora Ok Oddio Faccio danni Eccoci Il danno Ok Loro vomitano In direzioni casuali Ricordiamocelo Lo shot speed up Ci aumenta il range Due chiavi Va bene Andiamo Ok Oh come on Ma non esiste In nessuna Immaginazione Ma stiamo scherzando Ma pazzi Completi No Dammi Dammi Pyromaniac E lo facciamo Mi sa che non ci arriviamo A 50 A 100 Ponte Fucking Finally A good bonus No per il content No il content E vincere O comunque Essere decenti Il content Non è Farsi schiacciare Dalle scelte Idiote Desabu Elena Woods Jova Jack J Mark Tapost Grazie Leda Allora Se fai il boss No damage Perché mi trattate male Perché mi date Aspettative Che non ci possono essere Ho capito Però Con tutto l'affetto Milen Ma ti venga Un attacco di diarrea Cioè Cioè Ero pronto Concentrato A schivare E c'è stata la tenia Nel culo Vabbè Di nuovo Non mi sento in colpa Fatemi sentire in colpa Per gli errori Cazzo Questo si poteva fare No damage Questo era possibile Perché lo conosciamo Perché lo conosciamo Ma cazzo Fammelo cominciare Il boss Cioè Ho fatto no damage Tutto il piano Ok Mi sento meglio Adesso con me stesso Ora ho fatto Un errore reale Preferisco fare Un vero errore Che Cioè Oh che culo Oh che culino Che bel culino Qua abbiamo Ehm Traintendibile Però A me piacciono I bei culi Quindi Va bene Come sei volgare Michele Ascoltatemi Ehm Secondo me Black Lotus Non ci serve a niente Ma vediamo un po' Ehm Boh Survivability Sì Perché se troviamo Una sacrifice Ci serve Ok Meno 52 No Andiamo Ho tanti HP Ma non possiamo Generarli Spoon is possible Sì Lo è Abbiamo anche due bombe Ed è XL Il piano È un piano XL Di una piccolezza Imbarazzante Ma sentite Io provo C'è lo specchio Lo so Lo specchio Fa sempre Molta paura Amici E non lo so Non saprei Oh merda Questo era un problema Che farono damage Questo è un boss Se non lo conosci Ti distrugge Noi lo conosciamo Ma ci è scostato caro Negli anni E nei mesi Alla fine Alla fine Cutto? Cutto? Allora Non dobbiamo cadere Vittima Dei malus Ok Questa cosa è pericolosa Questa cosa è veramente pericolosa Però più danno ci serve Eh secondo me vale la pena Ragazzi è più Ah no è più 0,3 danni È più 0,3 danni Entro in satana Controlliamo Oh per l'amor di Dio Oddio La torretta automatica Però non è male La torretta automatica Non è male La torretta automatica Non è male Però La possibilità di prendere gli angeli È più interessante È più interessante Ci servono Ci servono punti Allora Ci servono veramente tanti punti Ragazzi Ah il mirror Mi spaventa un po' Onestamente Non me la sento Non me la sento Mi dispiace Il knockback delle ossa Non mi piace Mi dispiace Il Cioè No Purtroppo no Purtroppo no Andiamo Facciamo così Non mi sento elegantissimo Ad aver speso questi punti Ma Andiamo Sappiamo che Abbiamo ormai capito Che i punti arrivano In un certo modo Devi superare una certa soglia E non superarne un'altra Quindi per ora costruiamo 15 extra sono buone Ok 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 Stiamo attenti amici Ok 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 non lo so per ora mi sento particolarmente preoccupato e vi dirò questo mi attacca risulta danno sicuro grid è molto pericoloso con i suoi proiettili come lo sono le teste di grid pericolosissime non sarebbe male avere uno sconto vabbè ci sta ci sta ci sta andiamo a vedere l'arcade allora peccato abbiamo fatto dei buoni emotional li abbiamo persi tutti lì v bag non ci serve a niente scatol sarebbe bellissimo scendiamo fino a 30 vabbè eccolo che fastidio vabbè scendiamo fino a 30 ah è vero perderei i punti delle mosche touche è una cosa intelligente da dire molto cazzo madonna che stanza di merda per un emotion mi intendo poche a scuola usch gradire più danno cominciamo a scendere abbastanza allora allora incredibile quanta survivability otteniamo nelle run però o no per fortuna che non sono quelli scheletrici ok piani un po' del cacchio eh come reward però sentite abbiamo virgo 69 punti moschine queste sono due a ball a distanza soprattutto bomba fluttuante questo è pericolosissimo però non con loro eccoli con loro si quello intendevo beh per quel che vale eccoci qua questo è un problema ma non sono qui e caricano ok 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 non hanno gli occhini non ci vedono oh no ce li hanno ma sono ciechi via entriamo nel negozio eccoci pandora non è male pandora non è male in effetti pandora non è male la fortuna la prendiamo ovviamente allora in teoria però se ci da oggetti costano vero? eh si che costano certo che costano il fatto è che non stiamo trovando sacrifice gli oggetti li ripaghi vabbè io per 20 punti la prendo perché se poi apriamo gli angeli è ovviamente interessante però non sono sicuro perché abbiamo bisogno allora fondamentalmente noi stiamo cercando di costruire una build per ora ci manca una build per ora ci manca completamente beh in realtà non ci serve venire qua quindi eh se troviamo uno stars si così quindi vediamo un po' falleremo miseramente dai 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 scoppiate ok perfetto ok sette lacrime ci serve come il pane non ha sconto questo giusto? non può avere sconto però non abbiamo ottenuto la stanza allora allora non sei a 100 eh ma pensavo che vi ricordate che c'era almeno 5% di sconto no? ok io preferisco essere sapete al sicuro ora oh salve no grazie oh cazzo fatto bene oddio giocavo anche diversamente adesso eh bombs are key molto comodo quando ho zero di tutto ok ok a 100 punti è il 5% ok ma può scendere può scendere no? oddio Michele fermo 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 Michele 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 solo perché abito l'emotional mamma mia è comunque incredibile come cala la concentrazione quando prendi un obiettivo ok ma lo sconto può arrivare fino al 15 no? giusto ogni 50 punti aumenta? no è pagato ok ogni 100 ok 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 a forza 200 ci arriviamo ok ok quindi a me adesso come achievement manca soltanto fun guy vero? li ho fatti tutti anche c'è la soul card è una sola perduta la fill vero? o sono 500 punti ogni volta? oddio ah le carte sono una sola volta ok sembra un run con un seed strano quelle della fill ah no ecco perché perché ci sono talmente tante altre stanze che possono succedere cose quindi abbiamo ah quindi la carta è fatta per tutta la fill sono contento allora allora ok perfetto ma veramente abbiamo finito il piano? oh fuck che delusione che delusione allora con la pill in effetti comunque il bonus delle stanze segrete ha un valore ha un valore perché perché sono talmente tante che non le trovi non le trovi ha senso cioè lo capisco allora 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 ok via e niente sacrifice in tutto questo quindi stiamo scendendo siamo sicuri che valga la pena scendere prima di usare la dovremmo arrivare fino a vumb scusate eh io qua wikizzo un momento perché è importante capire una cosa un momento allora al prossimo piano sono 4 soul hearts 20 penni a depth e vumb 2 boss items non lo so secondo me è rischioso allora oh allora ah è vero mi dice l'effetto anche su eh dovremmo usarlo qui ma oppure al prossimo se c'è una sacrifice per favore sacrifice appari do this for me ok questo è importante questo è uno dei potenziamenti più importanti di cui abbiamo bisogno prima impressione sulla pill è meravigliosa è un lavoro incredibile fa innamorare completamente cioè è il sintomo della più genuina qualità e passione che l'essere umano può fare in un hobby comunque che diventa poi agonismo e oddio oggi su no dicevo ne riparliamo quando non devo fare una nota emotional ok allora ok ok guarda come vuole i nostri simpaticoni guarda anche aggressivo sto zombie madonna santa ok ragazzi stiamo combattendo contro delirium oh oh crista oh gesù ma ehi boh si ho detto crista perché stavo dicendo cristaccio però è carino meno che è poco che riva abbiamo problemi con i danni bello una chiave per una chiave ragazzi cioè questo è mio è assolutamente mio e dovevo prenderlo prima e dovevo prenderlo assolutamente prima questi mi fanno danno eh lo sapevo io strons cosa non ti fa per un piccolo sconto non mi ricordavo che vomitasse colpa mia ma non mi sento strons ok a questo punto ok prendiamo 200 punti oh belin scusate non ero cioè ero convinto di star muovendomi bene invece sono scivolato praticamente sulle lacrime ok che paura che paura mi son preso ero talmente convinto di non prendere danno che mi sono genuinamente spaventato allora cosa mi dicono i moderatori? oh 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 oddio ok e daddy longlass ah attenzione merda e beh non ho dubbi lo prenderemo anzi me ne sbatto dello sconto lo prendo subito ok ragazzi ora abbiamo una build ora abbiamo una build iniziale ma abbiamo una build ora con lacrime spettrali anime spettrali lacrime spettrali e daddy longlegs ora cominciamo a ragionare c'ho t'ho dimenticato ci sono delle bombe nella stanza prima dello shop ok però ball of smoke grazie carico per lo showcase di stasera e come e come potrebbe essere tra i più importanti di sempre anche per le anche per i motivi sbagliati che 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 Ma Famigli basati su ragni e mosche Vengono potenziati Daddy Longlegs È un fam... Ah Fermi tutti Ok Attenzione È sicuro un ragno, esatto Eh, però non raddoppi i danni, vero? Potenzia è bassa Potenzia è bassa Sì, ma la sacrifice? Cioè io ho lavorato per la... Cioè, la sacrifice Sì, credit card è assolutamente la satana Ovviamente Ovvio Il problema è che sto satana non sta uscendo Mi sta andando tutto male Quanti punti dà a sconfiggere l'obiettivo della giornata? Oddio O meglio, della run Allora 250 Buono Buono, buono, buono Oh no Ah ma sono bloccati Tanto l'ho già preso l'emotional damage Quindi 189 Ha schivato Evviva Hiveminder addoppia il danno Ah Raddoppia il danno Dite, eh Ah, ho già preso il danno Non mi interessa No, ho paura Non ti temo Massi Con questo possiamo anche Migliorare Le macchinette, giusto? Con questo miglioriamo le macchinette, vero? Vabbè Ok Dicevamo 1 Go 15 Prendiamo lui Facciamo un bel reset Tears up La bussola Con la curse Non ci serve a niente La bussola Ah, il lucky foot Che ci aiuta Ok Ok, ok, ok Allora Un altro gulp Doppio Pandora's box Grazie, ragazzi Significa Quattro oggetti A boom No Fare una foto alla mappa Prima di 500 punti E barare No Non funziona con Pandora No, dai La foto alla mappa E barare Amici Non si fa Ah, non funziona Poi lo fa sempre Ah Sozzo Cioè Fa le regole E poi cerca Mica quanto è italiano Cristo Merda È la cosa più italiana Che abbia mai sentito Allora Cristo santo Eccoci Madonna Santa Ma cosa mi tocca sentire Allora Ma quindi St'error Comunque dobbiamo cominciare A smettere di prendere oggetti Lo sapete Siamo a depth 1 E non abbiamo depositato niente Non abbiamo trovato gli angeli Non stiamo facendo mega satana È una totale inculata Per ora Cioè Sto giocando bene A The Binding of Isaac Va bene Ma devo giocare bene La pill 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 Non mi ricordo Se è Tears Up Sta cosa Ah Pillola Power Meh 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 Invincibilità più danni a contatto La prendiamo Per il prossimo piano E niente error Allora Oddio Mi sta scivolando La chat Ok Ok Michele Michele Dai Daddy C'è Error Ah sì Oh Si comincia Merda Devo prenderle Ste cose Annaggia Annaggia a me Annaggia a me Non lo so Sti punti Quando li facciamo Cazzo Non posso Non posso Ragazzi Non posso Allora Error Avete detto Che c'è Semper fi E' vero Ok Vabbè Debs 2 Senza aver depositato Niente E' strano Non Stupido Perché Comunque Alla fine La partita È quello Che è Il personale Oddio Vabbè Ormai Emotional Cominciano ad essere Difficili Mi rendo conto Però cazzo Mi è spawnato Sotto Non vicino In 600 ore È successo solo Un'altra volta E mi incazzai Come una iena Vi ricordate Loro non dovrebbero Mai spawnare sotto Devono spawnare davanti Vabbè Questa E' colpa Di Isaac Ma per una volta Che potevo avere Una Oh Quello che volevo In effetti Lo ammetto Questo è Powerpill Vero? Ah no Non è identificata Ci ha fatto Riguadagnare Rosary Sì Questa è stata Una Macmillenata Eh Stiamo un po' Nei guai Non siamo Falliti Ma siamo Nei guai Allora Vediamo un po' Che si fa Ok Sacrifice Ci serve una sacrifice Per favore Per favore Per favore Una sacrifice Questo ci fill Ci fulla Dai Abbiamo Abbiamo Cerchiamo una sacrifice Per favore Un po' Di Un po' Di fortuna Un po' Di Eccola Buono Ok Allora 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 Così Ok Ok Ormai Una volta Quanto mi fa Incazzare Quanto mi fa Incazzare Ops Vabbè Abbastanza Un disastro Abbastanza Un disastro Ai 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 Questa run Ottima run Di Isaac Ma Seed Merdosissimo Per la fill Onestamente Non so Che altro Avrei potuto fare Per ora Strategicamente Non mi viene in mente Che avrei potuto fare Davvero di meglio In vista Dei piani avanzati Soprattutto Cioè Sapendo che Tendenzialmente Non scoppierò Prima Voi che ne pensate Avrei potuto fare Davvero di meglio Forse qualche emotional Ecco Giusto quello No raccogliere i quari Non mi serve Non adesso almeno Vediamo Magari c'è un'altra Sacrifice L'unica cosa in più Era il rischio Del mirror Esatto Ma non me la sentivo Con le bone No Siamo a terzo due Merda Ok Ok No 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 Che non è finita Stiamo giocando bene Per carità Per carità Non mi sento assolutamente Sconfitto in niente Per ora è il seed Non sono io Va bene Ci sta Lo accetto Ci si gioca Carino Nice 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 Indeed Non è male Ma conta come satana Mi toglie gli angeli per sempre Ok 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 A posto Basta Basta Ora siamo pronti anche per le orde Un po' meno pronti Per lo scazzo di non aver trovato davvero premi angelici e cose Però possiamo fare anche mega satana Cerchiamo il negozio ci siamo già stati Ora si fanno danni seri esatto Ora siamo da orda Non rotti come ieri ma Boh Ah error Nice It's the full time Ok Lo speed a 180 è persino meglio di 2 The full Perfetto HP per 2 Ah ecco perché non amazziamo le cose La blu Oh merda Pill Cattiva Non ci interessa No grazie Pillola sperimentale Certo che si Holy No 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 basta 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 Questo sarebbe stato utile se avessimo trovato Si l'avessimo trovato si avessimo trovato si avessimo trovato il planetario ma altrimenti Facciamolo così Facciamolo così Ne uso altri due e basta Sei veramente Ah questa è colpa mia Ok C'è qualcosa di effettivamente utile Non lo so Si rock bottom ma non credo che Vogliamo provare Ma non lo so Il regalo dico 29 punti Sono pochi in effetti Sono pochi Siamo onesti Sono pochi 29 punti sono una stanzetta scarsa Magari il seed mi fa un regalo Ma abbiamo finito gli shop ragazzi Abbiamo finito gli shop Che dite? Ah dite che nelle stanze extra Potremmo trovarne Non lo so Sono 90 punti Non sono più pochi Sì ma il restock Sta per rompersi Ragazzi il restock Ha un passo da rompersi Vabbè io li spendo ora Però Sono intimorito adesso Onestamente Ora ho speso tanto Perché 100 punti Sono 100 punti Stronzo Puberty Stronzo Ah Carino Peccato che ho the fool Che è più importante Perché è gratis? Perché è gratis? Perché è gratis? Vabbè non mi importa Ecco questo Ok orde 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 vinte Orde ottenute Orde raggiunte Ready Ready to fucking go Ora le orde sono nostre E Damocle ci ucciderà Immediatamente È finita la run Eccoci qua Strategia Questa è stata una mossa strategica Questa è stata una sequenza di scelte Non di gameplay Skill tecnico E meccanico Ma di vera skill mentale Ok mamma Tanto già le motion L'ho rotto Ah questo è il champion Tra l'altro Quindi non dovrebbe mai fare il pestone Michele Michele Per favore Isaac The fool Ok Andiamo Nella error room Non abbiamo ancora depositato niente Secondo me stiamo facendoci un'inculata Vabbè sta roba non ci serve manco Veramente eh Poteva uscire di peggio Non lo so Ok Boom Ora si usa sto Pandora Però spero da Satana Ah ma abbiamo 48% di niente Non si usa la Satana Ok ragazzi punti 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 Per l'amor di Dio Punti Ci servono i punti Ci servono veramente i punti Quanto vorrei un eternal Un collar Porca miseria Ma anche un Lazarus Cioè Sono concentrato Vediamo un po' come va Oh no Lui velocissimo Ok Ma anche Dead is longer Let's Ok questo è un inganno Anche questo mi ha fatto sentire ingannato Che trinca c'era scusate C'era un buon trinca Nooo no 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 Non è vero Chi se ne frega di quello Allora 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 Succede una cosa Ok Andiamo Mmh Giamanti Oh Dio Dio Ok Ok Beh i riflessi Mike Allora 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 Ma io vorrei l'emotional damage No Vorrei l'emotional Ma poi cosa vuol dire cutto Cioè il dialetto non lo so Toscano Non vuol dire niente E' un verso E' una dariata Va bene E' dariese Va bene Ok 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 Capisco E' come io rispondevo al liceo Ad alcune domande A volte ha funzionato tra le altre cose Oh no Questa è brutta Sì ma io ho dei riflessi Che sono oltre l'umano Alla faccia che dovrebbero diminuire crescendo Pezzenti Populani Ok Vai pillola Fai la tua scelta però Falla Ok Quattordici stanze extra Pupulani Già É Pute Quattro A La Quattro Sì ico Ok Non possiamo fare le wave adesso Con l'emotional Dobbiamo accettare qualche dannino Buono Ok Abbiamo le orde Alto a destra Non ho depositato apposta Sia inteso Sia sottinteso che non ho depositato apposta E devo rischiare ormai Non posso più giocare Non sono contento ma Che paura Boia Dio santo Devo mutare? Ok Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Eccomi Allora Allora Perfetto Perfetto Sì sì no no Tutto ok Non so quando mangiare Dobbiamo finire Oddio Perfetto 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 Non voglio Non voglio Damocle Non voglio Damocle Non voglio Damocle Perfetto 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 Noglio Perfetto Deviled Perfetto Perfetto Che Perfetto Grazie. Mi sa che ho fatto dei calcoli sbagliati, amici. Grazie. E lo so che dovrei usare Pandora. Però non lo potrò fare nella Secret. Però F1 va fatto... Adesso ti arriva Damocle. Se ti fa danno deposita, ma... In che senso? Ti uccide, no? Tanto se faccio F1 mi toglie il 70%, ragazzi. Ma che cazzo? È la mia vita reale. Semper Fi. Ma... Ma no, non volevo fare questo. Non volevo raccoglierlo. Volevo vedere in cosa cambiava. Non funziona? Non te lo fa vedere perché... Ah, perché è segreto. Vabbè. È che avevo visto che era apparso con Pandora's Box e mi sono illuso che lo facesse anche con i punti interrogativi. Vabbè. 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 ok secondo me ho fatto bene a spendere no dai ho fatto bene a spendere significa che posso fare il prossimo piano ho speso apposta error no e sono cagato sotto ragazzi eccola no vabbè la pillo la pillo legge il max ah ok ok quindi dammi anche qua può farti danno in automatico bastardi bastardi non è vero ah no perché non è un pulsante pensavo di aver chiuso la stanza vabbè vabbè non importa colpa mia nothing wrong no ho pensato che si disattivassero le spine nella mia testa la challenge era lo la challenge era lo scrigno e disattivavo le spine vabbè palle d'acciaio pubertà fortuna ok guarda che con le orde non prendere danno adesso eh lo so devo andare in focus sì sì sono adulto adesso sì Tanti punti oggi Questi saranno veramente tanti Sperando di depositarli Sperando di depositarli Eccola E che cazzo La bomba c'è Cioè non pensi Cioè vabbè non importa Non vi starò a descrivere quanto ho sbagliato il range della bomba nella mia testa Errore mio Cerca boss Ma che cazzo di consiglio è amici miei Cerca boss Secondo me cosa sto facendo leggendo i menu Allora E niente Tocca fare F1 Che sfiga Questa è solo sfiga Questa è solo yella amici Questa è solo sfiga E purtroppo Se perdo gli item E' un problema E' un problema Perché perdo le ossa Perdo tutto Ah sono random Non sono i primi Sono random Sono random Cazzo sono random Ok Ok Sì RNG Non conta la skill in questo Sapete che è una cosa che a me non piace Ma lo accetto, fa parte della challenge È solo sfiga Non narratore, non sai come funziona la pill Vabbè, ciccia Che senso ha Damocle? È intrattenimento Alla fine È il circo della tensione Questa non è l'Evo, ragazzi È la pill È contenuto Cioè È guardare la Formula 1 Sperando che la gente si schianti senza farsi male È la stessa cosa Senza Damocle 1, non ci serve competizione Perché io che ho 500 ore su Isaac Scoperei chiunque ne abbia 10 Per sempre E sarebbe impossibile la competizione Così invece Arrivi ai 700 e implodi Hai perso completamente la run Quello scarso Che è incredibilmente impaurito E deposita 100 punti a piano Vince È giusto così Ora mi aspetto qualcuno che doni 600 sub ovviamente Per compensare Poi gli dice Ieri la spada ha punito anche me Esatto Eho Succederà anche ad altri Ma Potrebbe non succedere a nessuno Altro Perché Perché solo culo È un lancio di dado Solo un lancio di dado Sì 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 Una run può essere iniziata interrotta Sì È vero Solo che Cioè Alla fine Il mio obiettivo personale È raggiunto Cioè L'ho giocata bene sta run Anche perché adesso Avremmo cominciato a fare migliaia di punti Se non è 2000 Li facevamo Così Figo però Bella run Grande sfiga Fa Questa farà parte della storia Della pill di Sabaku Più che altro Mi aspettavo che mi avrebbe consumato Io ero convinto Che l'F1 Consumasse 100 alla volta Invece è cominciato con 1 Cioè Tutte queste cose Non le potevo sapere Perché non ho avuto Settimane di allenamento Sulla pill Per ovvie lecite ragioni Ma non ho potuto Ciao ragazzi Alla prossima Sempre fai Che fastidio Che fastidi Oh